Firenze Smart Firenze 429 variante di Certaldo, di vieto di transito per la chiusura in entrambi i sensi di marcia tra i chilometri 12.50 e 17.650 fino al 12 agosto nei comuni di San Gimignano, in provincia di Siena, di Gambassi Terme e di Certaldo nel territorio metropolitano di Firenze. Si ricorda che a Firenze sono iniziati i primi cantieri della linea tramviaria Fortezza San Marco, info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!